Gentilissimo pubblico, gentili pubblico di Castro Reale, innanzitutto, come siamo soliti dire perché ci porta pure fortuna, la buona creanza. Buonasera dal trio Girotto, Servillo Mangalavide. Per fare un gol, imbarbagli arbitri, ci vuole il senso delle regole, per fare un gol, dal calcio all'angolo, nell'angolo così, per fare un gol, che sia un miracolo, ci vuole un santo per correggere la curva poi del pallone. Serve il piede dell'uomo in più, per fare un gol, che sia drammatico, ci vuole un gesto molto atletico, per fare un gol, che sia patetico, questo non lo so, per fare un gol, ogni domenica, ci vuole l'asso nella manica, potevo evitare questa forza, è meglio finire qua. E fare un gol, come l'amore, calcio di rigore, avendo anche un portiere che non sa bene dove cadrà, per fare un gol, che fa classifica, ci vuole un po' di senso prato. E fare un gol, come l'amore. 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 Per fare un gol, per fare un gol, a quelli bravi, bisogna essere un po' gli ultimi, per fare un gol, che resti unico, prende di più. Per farlo come l'amore, per farlo come l'amore. Per farlo come l'amore, calcio di rigore, avendo anche un portiere che non sa bene dove cadrà. Per fare un gol, per fare un gol, che fa classifica, ci vuole un po' di senso pratico. Per fare un gol, per fare un gol. Per fare un gol, ogni domenica, ci vuole l'asso nella manica. Potevo evitare questa forza, è meglio finire qua.